Ritorna il lassoriso in casa Gela grazie alla meritata vittoria per 2-0 sulla capolista Rende, i calabresi perdono la vetta della classifica, adesso comandano i G Virtus e Sicula Leonzio. Uno sgambetto quello di ieri firmato da golla di Corrado Montalbano e di Toni Scerra che ha permesso alla formazione bianca-azzurra di ritornare alla vittoria dinanzi al pubblico del Vincenzo Vresti e di spazzare via i musi lunghi dopo la coccente sconfitta rimediata la settimana scorsa in casa della frattese. Una gran prova quella messa in campo da ragazzi di Mister Infantino. Con Anassim Panchina a causa della febbre che l'ha tenuto fuori per tutta la settimana, il tecnico di Cammerata opta per un 3-4-3 con Evola nuovamente in difesa e il tridente formato da Montalbano, Bonanno e Kosovan. Gela subito rabbioso sin dalle battute iniziali che prova a mettere pressione ai calabri. Alla diciassettesimo i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un tocco di braccio di Boscaglia su calcio piazzato di Evola ma l'arbitro propende per l'involontanità. Al ventesimo rende pericoloso con Serleti che tenta di sorprendere Saitta con un tiro dalla distanza ma il portiere gelese sventa in angolo. Al ventisettesimo il Gela passa in vantaggio. Kosovan si invola sulla fascia sinistra servendo sul primo palo un pallone invitante per Montalbano. Bravo a girare subito in porta. 1-0 e il Presti esplode di gioia per il meritato vantaggio. Al trentunesimo i gelesi potrebbero raddoppiare ma la conclusione di destro di Bulades è deviata in angolo. Al quarantaduesimo clamorosa palla gol per gli ospiti con il colpo di testa ravvicinato di Serleti che manda clamorosamente fuori. Pericolo scampato per Bonafini e compagni che chiudono in avanti il primo tempo con una conclusione di testa di Montalbano alta sulla traversa. Nella ripresa dopo tre minuti è ancora il Gela ad avere una palla a gol con Kidichimo che tenta senza fortuna la deviazione al volo da buona posizione. Padrone di casa che perdono per infortunio il giovane Romito Bulades autore di una grande prestazione al suo posto entra a Serra. Il mio entrato strappa gli applausi del pubblico grazie ad un bel tocco quarantaduesimo a scavalcare il portiere. 2-0 e rende alle corde che a quel punto tenta in vano gli ultimi assalti alla porta del Gela ma il muro difensivo eretto da Gambuzza, Evola e Campanaro è inespugnabile. Dopo sei minuti di recupero l'arbitro Bonassoli di Bergamo decreta la fine del match e la vittoria del Gela sui calabri della Rende. Scacco matto possiamo dire all'ex capolista.